Si aggiunge un altro tassello davvero per rendere questa scuola sempre più fruibile ma soprattutto per dare ancora un'opportunità ai giovani del quartiere. Sicuramente, ma non solo questo. Oggi è una giornata speciale per una persona speciale, la vorrei sintetizzare così, perché la biblioteca che inaugureremo avrà il nome di Giovanni Casano, l'avvocato che da un anno è scomparso e che ha lasciato un segno importante nella città di Gela. Oggi non è soltanto la giornata per riprendere ad ambiorraggio il tema della legalità con lo sguardo e il cuore a Giovanni Falcone, ma ad un uomo che è stato molto vicino alla nostra città e che ha avuto un grande interesse per i giovani. Infatti oggi è stata pensata come una giornata semplice di scuola per affrontare il tema della legalità partendo da una citazione dell'avvocato Casano, chi rispetta le regole è libero. Su questo tema i ragazzi della provincia di Caltanissetta si sono confrontati partecipando al concorso che noi abbiamo indetto. Oggi ci sarà la premiazione e a conclusione ci sarà la possibilità di aprire questa biblioteca che è uno spazio fruibile per i ragazzi della nostra scuola e per la città. Dedicare una biblioteca a un avvocato che ha esercitato la sua professione per molti anni nel foro di Gela diventa davvero un fatto di prestigio per tutto il foro. Oggi è un motivo di orgoglio non solo per la famiglia dell'avvocato Casano ma devo dire per tutto l'ordine gelese perché è veramente una figura, una grande figura l'avvocato Casano è stato uno dei pilastri dell'avvocatura gelese, è stato un grande penalista è stato un grande maestro per tanti professionisti. Qual è il ricordo più bello che conserva dell'avvocato Casano? Io ricordo di Giovanni Casano, dei ricordi personali importantissimi ma intanto quello che lui fondò la scuola dei penalisti a Gela invertendo quella diaspora che vedeva i gelesi recarsi a Caltanissetta presso sia pure il glorioso foro di Caltanissetta invertì con tanti sacrifici, allora Caltanissetta la si raggiungeva in un'ora e mezza quindi la sua tenacia, la sua fede assoluta nella professionalità e la sua fierezza non fu mai prono né adulatore verso seppure rispettoso della istituzione diciamo così della magistratura. Lo ricordo poi perché a lui debbo il primo mio grande processo che lui in un'estate di grande fatica ebbe a cedermi pregandomi di sostituirlo e di fare mio quel processo e quello fu poi il mio trampolino di lancio ma poi ci sono tante tante altre cose l'impegno, la passione civile l'impegno per ogni cosa che lui faceva.